I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Per tutta la terra si diffonde l'annuncio del Vangelo. Oggi è la festa di Sant'Andrea e viene proposto come Vangelo il testo di Mar, di Matteo, capitolo 4, versetti 18-22. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Avrei dunque fratello di Pietro e pescatore. Il Vangelo racconta la chiamata. Il racconto è essenziale. Gesù cammina lungo il mare della Galilea, vide due fratelli che stavano gettando le reti nel lago e disse, venite dietro a me. E qui avviene la novità. Subito i due pescatori lasciarono le reti e lo seguirono. È una sequenza velocissima. I due diventano discepoli di Gesù in un momento. Gesù addirittura sembra non fermarsi. Il Vangelo dice infatti, andando oltre, vide altri due fratelli e fece la stessa veloce chiamata. Noi vorremmo sapere ma che cosa è successo nell'animo di Andrea? Che cosa lo ha spinto a lasciare il lavoro per seguire Gesù? Per dare una svolta così radicale alla sua vita? Infatti non è semplice lasciare il lavoro, la casa per iniziare una vita dove ti sposti continuamente, non sai dove dormirai la sera. Ma che cosa ha fatto Gesù? Come Gesù ha affascinato, ha convinto, ha attratto Andrea? Dobbiamo riconoscere che il Vangelo di Matteo non lo dice espressamente. Infatti il Vangelo di Matteo nel racconto che abbiamo sentito vuol mostrare che cosa avviene quando Gesù passa nella tua vita, ti incontra e ti incontra nei luoghi abituali che tu frequenti, il posto del tuo lavoro. L'incontro con Gesù cambia la vita. Ma per capire in fondo quello che è capitato nella vita di Andrea allora è necessario leggere anche un altro evangelista. San Giovanni nel suo Vangelo descrive in maniera più attenta il primo incontro di Andrea con Gesù, perché quell'incontro sul lago non è stato il primo incontro che Andrea ha fatto con Gesù. Prima, così ci dice San Giovanni, Andrea che era sì pescatore ma era anche un uomo in attesa del Messia e per questo si era lasciato toccare dalla predicazione del Battista e per un periodo era diventato anche discepolo del Battista. E come discepolo del Battista era stato testimone del battesimo di Gesù, aveva sentito le parole di Giovanni il Battista, ecco l'agnello di Dio. E allora il giorno dopo che aveva Gesù quando aveva visto Gesù ritornare vicino al Battista e poi Gesù se n'era andato, lui Andrea insieme con un altro, probabilmente lo stesso San Giovanni che scrive il Vangelo, aveva cominciato a seguire Gesù. Gesù quando si è accorto che i due lo seguono, lo seguivano, non aveva fatto ad Andrea e a Giovanni un incontro di catechesi, una predica, no. Ha fatto questa domanda. Che cosa cercate? Che cosa cercava Andrea? Una domanda provocante perché costringe ciascuno di noi andare all'accento della nostra vita? Di che cosa abbiamo bisogno? Che cosa cerchiamo? E Andrea aveva risposto, rabbì, maestro, dove stai? Dove dimori? Che cosa dice questa risposta? Che Andrea non cercava uno che prima di tutto gli dicesse delle belle parole. Certamente abbiamo bisogno di conoscere la verità, ma prima di tutto cerchiamo qualcuno conquistare, che ci faccia sperimentare attraverso l'amicizia, la bellezza del sostegno, che ci offra compagnia, che dia speranza attraverso la vicinanza e dia dunque luce ai giorni, ai giorni della vita, anche i giorni difficili. E Gesù dà una risposta meravigliosa. Venite e vedrete, cioè li invita a casa sua. L'evangelizzazione di Gesù comincia con un invito a casa. Il racconto continua. Andrea e Giovanni andarono dunque, videro dove Gesù stava e quel giorno stettero con lui. C'è come una insistenza su questo verbo stare, rimanere, dove appunto la novità della vita si compie quando si sta insieme in casa. Gesù li invita, li fa stare con lui. Anche in questo caso il Vangelo non riporta una sola parola di quello che si sono detti. Riporta solo l'ora in cui i due sono entrati a casa di Gesù. Erano circa le quattro del pomeriggio. Per Andrea essere andato a casa di Gesù, essere stato con lui un pomeriggio, è stato decisivo. Ha sperimentato la qualità nuova della vita quando si sta con Gesù. Tanto è vero che il giorno dopo, incontrando suo fratello Pietro, gli disse abbiamo incontrato il Messia. Questo è il risultato dell'essere stato invitato a casa da Gesù. Questo poi spiega meglio che cosa è avvenuto più tardi. Quando Gesù ha chiamato Andrea, non solo lo ha invitato a casa, me lo ha chiamato a seguirlo, Andrea ha risposto pieno di entusiasmo e ha lasciato il suo lavoro per stare con Gesù, non solo un pomeriggio, ma tutta la vita. A commento di questa esperienza di Andrea riporto un suggerimento che mi ha molto colpito di una conferenza fatta ieri ai formatori del corsi di preparazione al matrimonio cristiano. Diceva il relatore, quando una coppia si scrive per il corso, prima di dare tante idee, tante lezioni, lui suggeriva invitate a casa la coppia che vuole iscriversi, offrite loro un pranzo, una cena, fateli stare con voi in famiglia, cioè fate sperimentare la comunione, altrimenti le idee che poi trasmetterete, se non hanno sperimentato la comunione con voi, stando a casa con voi, probabilmente saranno come vapore che si deposita per un momento ma poi svanisce. È certamente una provocazione quella che ha fatto il relatore, ma la vicenda di Andrea, dove tutto è partito da un pomeriggio passato in casa di Gesù, invita le nostre comunità cristiane a essere evangelizzatrici aprendo le nostre case, aprendo le nostre case all'incontro, favorendo nelle nostre comunità una ragnatela di rapporti e di comunione. Solo l'esperienza di come la vita cambia quando si sta insieme nel nome di Gesù, rende discepoli, rende possibile l'avventura della fede, rende possibile il coraggio di prendere scelte coraggiose. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.